Si viaggerà su una sola corsia per ogni galleria con il limite di velocità di 60 km orari per tutti i veicoli. E' quanto venuto fuori dall'incontro che si è tenuto al MIT in cui erano presenti i rappresentanti di strada dei parchi, dei ministeri interessati, dell'Istituto di Fisica Nucleare e degli Acquedotti di Teramo e L'Aquila. E' stato definito un modello di circolazione all'interno del traforo del Gran Sasso, progettato e stato ribadito per ridurre al minimo i rischi di incidenti e quindi di ipotetici sversamenti liquidi all'interno delle gallerie. Le prescrizioni sono frutto dell'accordo raggiunto per consentire di mantenere il traforo aperto dopo le polemiche dei giorni scorsi e impedire anche in via d'ipotesi uno sversamento che possa raggiungere la falda acquifera del Gran Sasso. Tutto questo da lunedì 20 maggio e vediamo come cambia il transito sotto il Gran Sasso. Si viaggerà come detto su una sola corsia per ogni galleria, introdotto il limite di velocità di 60 km orari per tutti i veicoli. La corsia di sorpasso della carreggiata Est direzione Teramo sarà destinata ai mezzi tecnici di intervento in caso di incidente. La corsia di marcia della carreggiata Ovest direzione L'Aquila sarà destinata ai mezzi tecnici di intervento in caso di incidente. Di vieto di sorpasso di fatto per tutti i veicoli, distanza minima di 50 metri tra i mezzi, obbligatoria per tutti. La scelta di ridurre il transito su una sola corsia servirà a garantire il libero accesso dei mezzi di soccorso in caso di incidente, evitando dispersione di materiali liquidi. I tempi di percorrenza dell'attraversamento con queste misure in atto passeranno dai 5 ai 6 minuti ai 10 minuti. Da strada dei parchi fanno sapere che il traforo è controllato da una centrale operativa 24 ore su 24 e da tecnici specializzati. Il traforo non chiude ma è bene informarsi perché a partire da lunedì 20 maggio il transito sotto il Gran Sasso subirà tali modifiche che già dalla prossima settimana dunque potranno essere testate dagli automobilisti.